VL, il nuovo allenatore Maurizio Buscaglia Dal basket al calcio rivoluzione allo stadio Benelli Muraglia si attiva all'antenna della discordia Consiglio provinciale contro la discarica di riceci Monbaroccio è stata nel segno degli 800 anni del Beato Sante Buonasera a tutti voi telespettatrice e telespettatori di Rossi Ben ritrovati a Rossini News, il nostro telegiornale del canale 80 che in questa edizione di giovedì 22 giugno apriamo eccezionalmente con lo sport perché in questo giovedì è arrivata l'ufficialità del nuovo allenatore della VL della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha scelto l'ex Trento Reggio Emilia e Napoli Maurizio Buscaglia Il dopo Repesia si chiama Maurizio Buscaglia è arrivata l'ufficialità sull'ingaggio del 54enne tecnico barese che arriva alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con contratto biennale e opzione su un terzo anno Buscaglia arriva a Pesaro reduce dall'esperienza in Israele dove ha centrato l'obiettivo salvezza dell'Apoel Eliat la seconda di due esperienze in terra israeliana inframezzate dal ritorno in patria amaro con l'esonero di Napoli Ora Buscaglia torna in Italia per sedere sulla panchina di Pesaro con la VL che centra un vecchio pallino di Ario Costa Il presidente punta sull'area dell'Adriatico per ritrovare il Buscaglia deluxe visto a Trento dove fra il 2014 e il 2018 centrò il premio personale di miglior allenatore del campionato e sfiorò due volte il bersaglio grosso dello Scudetto perso prima in finale con Venezia e poi con Milano Esperienze estere anche con la nazionale olandese esperienze in patria che non sono poi state ugualmente fortunate con Reggio Emilia, Brescia e la stessa Napoli Proprio a Brescia Buscaglia lavorò con l'assistant coach pesarese Giacomo Baioni una coppia pronta a riformarsi alla VL Dal basket al calcio grandi manovre allo stadio Benelli di Pesaro dove è entrata nel vivo la rigenerazione del campo sportivo lavori che costringeranno però la VL a traslocare per alcune partite nel mese di settembre Addio all'erba dello stadio Benelli Il campo da calcio, esausto e da anni regredito di ogni minima capacità di drenaggio lascia il posto alla rigenerazione sulla quale il comune di Pesaro ha investito 900.000 euro per ricostruire alla radice il manto erboso del campo della VIS Una VL che avrà un terreno di ultima generazione misto sintetico naturale Non subito però perché l'idea iniziale di cominciare i lavori all'indomani dell'ultima gara del campionato ovvero lo scorso fine aprile si è concretizzata solo da una settimana Ora i lavori non potranno terminare entro il 27 agosto data dell'inizio del campionato di Serie C 2023-2024 il sesto consecutivo con la VIS Pesaro ai blocchi di partenza Va da sé che per le prime partite casalinghe la VIS dovrà traslocare da Pesaro Quasi certo che il trasloco sarà lo stadio Tubal di Recanati Si incrocia le dita che i lavori consentano alla VIS di allontanarsi dal Benelli solo per la prima metà di settembre La data presunta di fine lavori è infatti quella del 13 settembre per consegnare un'opera attesa da anni e per risolvere un problema strutturale degenerato di stagione in stagione Il progetto eseguito dalla ditta del Fino di Teramo prevede anche l'avvicinamento del campo alla tribuna centrale e l'interramento delle panchine Da anni si interviene a step di lavori sullo stadio Benelli e si andrà avanti così anche dopo il manto erboso Aspes infatti a breve presenterà un progetto per l'abbattimento del muro che corre lungo via campo sportivo Si punta dunque ad aprire lo spazio verde ad oggi chiuso nel perimetro dello stadio ed è prevista anche una nuova sede del Circolo Amici della VIS una farmacia e una sala polifunzionale Nelle progetto non rientra la copertura della tribuna Prato una copertura alla quale erano destinati inizialmente i 900.000 euro poi dirottati sul terreno di gioco di concerto con le esigenze della VIS Pesaro Ora si cercano finanziamenti per completare anche questa copertura attesa da anni dai tifosi Torniamo a parlare di antenne di telefonia Tanti i casi dibattuti a Pesaro tra cui quello delle quartiere Muraglia Qui un'antenna seppur giudicata temporanea aveva generato già una forte contrarietà dei residenti Si era fatta viva l'ipotesi di uno spostamento in un'altra area ma ciò non è avvenuto visto che stamattina degli addetti ai lavori hanno iniziato l'attivazione dell'impianto Un risveglio turbolento quello vissuto stamattina dai residenti di Muraglia che davanti ai propri occhi e a loro insaputa oltre a già sorretto ripetitore alto 25 metri hanno visto apparire alcuni operai alle prese con l'attivazione dell'antenna Nessun'altra sistemazione sicché è stata presa in considerazione in alternativa al sito di Via Beccaria come invece aveva sollecitato nelle settimane scorse l'assessore all'ambiente Conti Dunque l'antenna gestita e installata più di un mese fa da Inuit società che opera nelle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche del gruppo Telecom sarà attivata a breve per una durata di 120 giorni Grattacapo notevole per i residenti della zona sia per l'impatto ambientale che per il depreciamento degli immobili svalutati del circa 40% Il tutto a due passi dall'asilo di quartiere L'attivazione dell'impianto è la risposta che di fatto smorza ogni forma di dissenso manifestata fin qui dai cittadini autori anche di una raccolta firme giunta più di 170 adesioni Ci lasciano perplesso queste cose quando poi la mattina noi ci troviamo a vedere attivato un'antenna e in prima pagina invece effettivamente c'è un antito l'antenna sul tetto del municipio ma il comune la stoppa subito quindi ci viene da chiedere perché effettivamente in quel caso l'hanno stoppata subito e qui no? Perché non c'è stato quel dovuto controllo che ci doveva appunto comunque essere? Perché qui l'ARPAM non è passata nessuno degli assessori, nessuno appunto nel sindaco, altri si sono visti o comunque ci siamo sempre tramite messaggi, tramite articoli di giornali nessuno si è interfacciato è nostra intenzione perché effettivamente noi non conosciamo esattamente l'impatto ambientale di questa antenna per esenziare al prossimo appunto consiglio comunale anche perché l'unica che ha risposto alle nostre domande è stata la Lega cioè ha riferito di aver fatto appunto due petizioni e che saranno appunto trattate in sede di consiglio appunto comunale quindi di conseguenza noi saremo presenti come cittadini fino a due giorni fa la risposta era troveremo un altro sito stamattina la risposta è stata l'antenna resterà attiva per ciò detto 20 giorni quindi decorsi questi 120 giorni cosa faranno? Lasceranno appunto questa antenna e poi verrà appunto riattivata all'occorrenza e soprattutto in questi 120 giorni chi vigilera soltanto effettivamente il comune di Pesaro è da più di un anno che ancora non ha fatto questo benedetto piano antenne l'unico piano antenne che c'è ad oggi è quello relativo agli impianti di telefonia fissa quelli di telefonia mobile non abbiamo nessuna appunto notizia noi dall'accesso agli atti dall'aprile del 12 aprile del 2023 l'inguit ha mandato appunto le relative richieste e autorizzazioni aveva 30 giorni appunto di tempo sia l'ARPOM sia il consiglio appunto comunale il comune, l'assessore all'ambiente per poter appunto vigilare e controllare siccome vale il principio silenzio e assenso deduciamo che per il comune per loro va bene sicuramente non hanno mostrato la stessa foga che hanno dimostrato con l'installazione dell'antenna a Piazza del Popolo ovviamente noi come cittadini dal canto nostro monitoreremo ci dispiace effettivamente di questa situazione perché siamo stati lasciati completamente soli e ancora una volta, ripeto, questo modo di fare di nascondere quasi le cose non è bello cioè perché effettivamente noi di fatto non sappiamo esattamente che tipologia di antenna è e nessuno effettivamente ha interagito appunto con noi in questi 120 giorni ci auguriamo che il comune controlli e altrimenti anche noi faremo i nostri controlli con un perito privato se l'ARPOM effettivamente non controllerà e valuteremo appunto il da farsi Voi cittadini avete mai pensato di portare a processo questa vicenda? Se si presenteranno i presupposti vale a dire c'è di inquinamento ambientale sì, assolutamente sì Il Consiglio Provinciale di Peso Rubino questo pomeriggio ha preso posizione ufficiale di contrarietà in merito alla realizzazione dell'impianto di smaltimento rifiuti speciali da realizzare nella frazione petrianese di Riceci un ordine del giorno che è stato presentato dallo stesso Presidente della provincia Giuseppe Paolini che abbiamo ascoltato a margine del Consiglio Ci prende una posizione ufficiale da un punto di vista di giudizio politico sulla realizzazione di quell'impianto lì nella collina di Riceci ho sentito parlare tanti a sproposito e tanti con delle motivazioni giuste sicuramente noi come Consiglio dietro una mozione che aveva presentato alla consigliera Fernanda Sacchi sindaca di Mercatello sul Metauro ne abbiamo discusso insieme con il gruppo di maggioranza l'abbiamo rielaborata e chiediamo praticamente con questo esprimiamo il nostro dissenso alla realizzazione di una discarica lì ma allo stesso tempo la cosa più importante è che chiediamo alla Regione di dare una giusta interpretazione delle distanze dei 500 o 2000 metri a secondo del rifiuto urbano o dei rifiuti speciali non tossici per cui è questo che noi oggi esprimiamo credo che sia dopo avere ascoltato i pareri di tutti io già l'avevo espresso sono stato ingiustamente secondo me accusato di non aver preso una posizione ma io l'avevo presa proprio a un'intervista che mi aveva fatto Rossini TV circa 20 giorni fa anche più avevo detto che secondo me quello era un luogo sbagliato questa è la dimostrazione che quanto si vuole fare un qualcosa di così importante sul nostro territorio perché quello che mi fa ridere è quanto sento dire diventiamo la pattumiera dell'Italia no noi produciamo 1.400.000 tonnellate di rifiuti come provincia di Pesolo ne smaltiamo 200.000 sono le altre regioni o alcuni paesi esteri che si beccano 1.200.000 tonnellate dei nostri rifiuti e se questi un domani decidessero di non prenderli più il problema è notevole per cui bisogna affrontare seriamente il problema dei rifiuti ma bisogna affrontarlo in maniera territoriale in cui si coinvolgono tutti i comuni e si individua un'eventuale zona e su quella si va è certo che ci sono delle zone che possono essere non impattanti parlare di discarica già è una cosa difficile però bisogna essere consapevoli che se dobbiamo individuare una zona bisogna individuarla e su quella bisogna lavorarci le immagini che vi mostriamo ora fanno riferimento ad un incidente stradale avvenuto attorno alle 11 di questa mattina nella frazione Montelabattese di Osteria Nuova provocando anche un grave rallentamento della circolazione il forte impatto tra due mezzi avvenuto vicino all'intersezione stradale con via Bonarrotti strada dove poi è stato fatto defluire il traffico una Mercedes Crescia si stava dirigendo a velocità sostenuta verso Pesaro quando la donna al volante che aveva anche un neonato ben legato al seggiolino posteriore ha perso il controllo del mezzo finendo contro una Jeep Renegade nera che sostava sul ciglio della strada Jeep che dall'impatto è stata scaraventata contro la ringhiera dell'abitazione della proprietaria del veicolo sullo spavento invece per la conducente della Mercedes uscita illesa dallo scontro assieme al proprio bambino intervenuti sul posto ambulanza e polizia stradale per i rilievi del caso e dagli incidenti stradali passiamo proprio alla prevenzione verso la guida sicura si sono infatti conclusi concorsi dal titolo Be Responsible che sono stati che hanno coinvolto studenti con una promozione al senso di responsabilità cavalcato sia dai comuni che dalla questura che dalla prefettura ma anche da polizia locale e croce rossa un progetto che accompagna i giovani a crescere responsabilmente questo è l'obiettivo di un'iniziativa che ha visto all'opera ragazzi tra i 14 e i 18 anni nel presentare il miglior storytelling e il miglior progetto di street art contro l'uso di alcol e droga alla guida i vincitori sono stati premiati nella sala rossa del comune di Pesaro con un premio di 500 euro spendibili per una patente di guida Sì il coinvolgimento di tanti ragazzi durante tutte le fasi del percorso del progetto e che vedrà oggi la consegna dei veri e propri premi dei premi che poi vedranno anche i propri progetti le proprie creazioni realizzate in particolare il murales che verrà realizzato nella rotatoria per intenderci vicino alla sede della polizia locale lungo via canale e lo storytelling che diventerà un vero e proprio video i vincitori i ragazzi che verranno premiati riceveranno un buono per la patente quindi un buono da 500 euro che potranno spendere nella propria autoscuola guida di fiducia per poter poi conseguire la patente questo è un progetto di cui per anni in questi ultimi anni si è parlato poco ma in realtà oltre che essere molto attuale è un progetto importante che deve coinvolgere le giovani generazioni e da lì aumentare quel tipo di sensibilità che proprio in quella fase di formazione di crescita importante ed è per questo che siamo partiti proprio dai ragazzi delle scuole e poi anche dell'università ma che in realtà si rivolge a tutti è un tema di cui per tanti anni si è parlato ma serve sempre mantenere l'attenzione alta senza dimenticare appunto che la sensibilità rispetto a queste tematiche è comunque un lavoro che va fatto quotidianamente e che vede questa volta l'amministrazione locale in prima linea è stato diciamo un percorso molto interessante ci siamo dovuti confrontare apportando ognuno le proprie caratteristiche perché poi il progetto prevedeva tre fasi di informazione formazione e prevenzione abbiamo diciamo completato le prime due fasi che prevedevano anche un contest quindi i ragazzi che abbiamo invitato qui questa mattina sono i ragazzi che hanno partecipato al contest che prevedeva due categorie una per la realizzazione di un murales e l'altra per la realizzazione di un video sull'argomento naturalmente del progetto Be Responsible cioè di mettersi alla guida responsabilmente dopo aver assunto insomma dopo aver bevuto alcolici di valutare di riuscire a valutare se è il caso di mettersi alla guida oppure no far guidare un amico e abbiamo avuto degli incontri con Luca Pagliari che è un giornalista regista e storyteller che abbiamo visto insieme a lui il suo docufilm che si intitola ogni giorno e lì sono stati coinvolti 1100 studenti in quattro incontri e questo questo docufilm è sulla storia di Francesco Saccinto un ragazzo di 15 anni che purtroppo è stato investito da una persona in grave stato di ebrezza e sono state fatte delle riflessioni insieme e poi questi ragazzi hanno deciso di partecipare al contest e questa mattina premieremo i vincitori ma anche tutti quelli ci sarà un riconoscimento per tutti quelli che comunque hanno partecipato domenica 25 di giugno si terrà la corsa inaugurale del treno storico a vapore Ancona Fabriano Pergola si tratta di una riapertura della linea subappenninica che prevede la partecipazione a bordo di 300 passeggeri oltre a diverse autorità regionali e nazionali il treno partirà dalla stazione di Ancona alle 8 e arriverà a Fabriano e Pergola rispettivamente alle 11 e alle 14 abbinando visite guidate alle due località e al museo dei bronzi dorati centinaia di persone ieri sera hanno affollato piazza del popolo per assistere alla consegna della cittadinanza onoraria di Pesaro a Gianfranco Mariotti padre del Rossini Opera Festival una onorificenza avvenuta all'interno della 59esima mostra internazionale del nuovo cinema in apertura della serata speciale dedicata alla festa europea della musica un riconoscimento conferito dal consiglio comunale consegnato a pochi giorni dal 90esimo compleanno dello stesso Mariotti e restando sulla mostra del cinema domani 23 giugno arriva a Pesaro un vero monumento della commedia italiana come Carlo Verdone che sarà ospite della penultima serata del Pesaro Film Festival domani alle 21.30 Verdone sarà protagonista di un incontro moderato da Barbara Sorrentini dal direttore del Pesaro Film Festival Pedro Armocida prima della proiezione di Borotalco popolare pellicola diretta dallo stesso Verdone a 40 anni dall'uscita nelle sale italiane il sabato 24 giugno alle ore 21 alla Rocca Malatestiana di Fano si terrà invece la prima edizione di Giovani in Festival un evento che era stato rinviato a inizio mese a inaugurare il Festival sarà la serata fino all'ultima mura animata dagli interventi degli attori Lucilla Monaco Elisa Pavoni Daniele Cecconi Emanuele Esposito si esibiranno il maestro Sauro Nicoletti la soprano Giovanna Donini il controttenore Nikos Angelis parteciperà la scuola di danza classica Chiara Danza e Paola Forlani che verrà omaggiata per aver trasmesso la passione per la danza classica nel nostro territorio da Fano a Monbaroccio dove è stato presentato il calendario delle iniziative estive delle comune che avrà il suo clou il 22 luglio in occasione degli 800 anni del santuario del Beato Sante entra nel vivo l'estate di Monbaroccio lo fa a partire dal prossimo weekend del 24-25 giugno con la tradizionale festa della lavanda e un raduno di Fiat 500 d'epoca che avviano un'estate di eventi presentata in Confcommercio partner associativo che ha visto il comune amministrato da Emanuele Petrucci entrare lo scorso anno nella rete degli itinerari della bellezza una stagione estiva importante perché quest'anno non so se vi è ben noto ma avremo anche l'ottocentesimo anno della realizzazione del santuario del Beato Sante un evento per noi fondamentale nell'ottica di quello che è un percorso culturale di fede e di valorizzazione di un territorio che è sempre più bello da amministrare quindi ne sono estremamente lieto e quest'anno abbiamo integrato dei concerti per ogni fascia d'età quindi dai più giovani ai meno giovani abbiamo creato degli eventi con cooperative socio-sanitarie per quella che è la valorizzazione molto legata a quella che è la criticità mentale del nostro territorio da provincia di Pesaro Rubino C'è un'iniziativa che è realizzata insieme con i comuni di Cartocetto di Colli al Metauro con Terranea sono eventi legati alla presenza e alla partecipazione di questi comuni nell'areale del DOP di Cartocetto quindi sono eventi gastronomici dove ovviamente al centro dell'attenzione c'è l'olio di Cartocetto e la partecipazione di ristoratori locali e di chef molto importanti Ci tenevamo perché finalmente riusciamo ad avere un interlocutore che parla singolare per una regione come la nostra che declina al plurale il tutto e perché per la prima volta riusciamo a fare un percorso congiunto con un catalizzatore quello che la con commercio cresce ad aggregare una provincia intera e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News ma l'informazione continua anche alle 20 con l'inizio della nostra prima serata che è dedicata alla 32esima convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero si tratta di un nostro speciale realizzato a Colli del Tronto in provincia di Ascoli Piceno in occasione degli importanti stati generali del Made in Italy nel mondo e poi alle 21.20 l'intrattenimento di Masterfish il pesce va in onda vi stiamo riproponendo alcuni nostri programmi di successo rivedremo la prima edizione 2019 di Masterfish appuntamento alle 21.20 e poi le repliche sabato alle 22 e domenica alle 20 e poi l'informazione su Rossini TV che torna puntuale domattina alle 7.20 in diretta con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini è invece davvero tutto per questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi